Buongiorno Eugenio, eccoci arrivati oggi alla nostra lezione di tedesco. Noi oggi proseguiremo il discorso sulla civiltà tedesca, ci concentriremo come abbiamo già parlato su situazioni turistiche, quindi sulle principali città e ricorrenze tedesche. La lezione di oggi verterà su una città, Frankfurt am Main, che è una delle città storiche più importanti. Noi, come al solito, parleremo in lingua tedesca di questa città, seguirà un riassunto traduzione in italiano. Ti chiederei alla fine di fare il solito riassunto di 50 parole, elencando quindi le principali attrazioni di questa città e di rispondere correttamente alle domande a crocette che troverai a fine testo. Ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. So, heute sprechen wir über Frankfurt am Main. Und Frankfurt am Main ist eine schöne Stadt von Deutschland. Und in dieser Stadt gibt es einen Flughafen. Dieser Flughafen ist der größte deutsche Flughafen. Von Flughafen kann man mit der Bahn fahren und in 15 Minuten können die Personen in die Halsstatt gehen. Frankfurt ist auch die Stadt von der Universität und hier leben viele Studenten. Und in dieser Stadt gibt es auch den Main Tower. Der Main Tower ist ein und der Haktun 19 Meter hohe und gibt es auch zwei Halssichtterrassen und Und wenn die Personen in diesen Aussichtterrassen sind, können sie einen schönen Handblick sehen. Und jetzt sprechen wir auch oben der Rathausplatz. Und in der Dome von Frankfurt ist ein Kaiserdome. Und in der Dome von Frankfurt kann man auch heimkaufen. Und in Frankfurt kann man auch heimkaufen. Gibt es in dieser Stadt viele Geschäfte und Peter mochte etwas für seine Freundin kaufen. Gibt es auch hier den Flohmarkt. Und welche sind die typischen Spezialitäten von Frankfurt am Main? Und wenn du etwas zu trinken und etwas zu essen möchtest, kannst du einen Haffelwein trinken. Und kannst du auch mit sojerkraut essen. Allora, facciamo la traduzione. Allora, qui parliamo di Peter, un ragazzo che è andato in vacanza in questa città. In questa città noi troviamo il più grande aeroporto tedesco e in 15 minuti con la metropolitana si può raggiungere la città. Questa è la città dell'università e di fatti qui studiano e vivono molti studenti. Qui abbiamo anche una torre alta circa 198 metri in cui ci sono delle terrazze e quando i turisti si siedono in queste terrazze possono chiaramente ammirare un bellissimo paesaggio. Parliamo ecco anche della piazza del municipio. In questa città si trova anche il Duomo che è stata proprio la casa degli imperatori perché hanno regnato molte di queste figure. Inoltre nella città è possibile anche fare shopping. Ci sono molti negozi e Peter vuole comprare qualcosa per la fidanzata. Se si vuole mangiare e bere qualcosa non c'è problema, si può bere il Ebel Boy che sarebbe un vino al sapore di mela oppure mangiare una costoletta di maiale con crauti. Quindi un bel rassuntino di 50 parole con le attrazioni di cui si parla nel brano e risposta a crocette. Ti ringrazio, buona giornata.